ogni passaggio i fratelli del cerchio attraverso andreina a cura di vb a te giunga il nostro saluto è una vera attesa quella che fino adesso si è consumata e questo è dovuto solo alla maturazione del tuo tempo interiore ogni passaggio di coscienza è una fase transitoria necessaria per adeguare il sentire alla nuova vibrazione che muta col mutare degli eventi che confluendo nella vita attraversano ogni cellula del corpo fisico e mentale accendendo nuove spie luminose nel corpo spirituale che così ne trae quel nutrimento indispensabile alla sua evoluzione ogni fase silente è come un sonno profondo durante il quale dal nucleo centrale si dipartono innumerevoli raggi che raggiungono ogni più piccola parte del corpo in ogni sua espansione forniscono un nutrimento affinché ad ogni nuovo risveglio il corpo fisico possa riconoscere da sé la soluzione a dilemmi passati e affacciarsi a nuove domande sicché la via della conoscenza non avrà mai fine ma ad ogni apertura d'occhi sulla realtà mostrerà ogni volta un mondo nuovo e ogni volta il respiro sarà più profondo possa il tuo sguardo fondersi sempre di più con l'immensità e i tuoi occhi non smettere mai di provare stupore